Non potrà tornare a scuola la bimba aquilana di tre anni esclusa perché non vaccinata. La vicenda è di quelle destinate a una lunga trafila nelle aule del Tribunale, quello amministrativo in particolare al quale i genitori, che si dicono favorevoli ai vaccini, hanno fatto ricorso tramite due legali, Alessia Giovannelli del Foro di Roma e Ubaldo Lopardi dell'Aquila. A decidere che la bimba non potrà tornare a scuola è stato il Tar dell'Aquila, che nell'ordinanza cautelare sul ricorso scrive il diritto all'educazione del minore e il pregiudizio economico prospettato dalla madre, derivante dalla ridotta capacità di svolgere la propria attività lavorativa per accudire la bambina esclusa dalla scuola, è recessivo a fronte del preminente interesse pubblico alla tutela della salute e della collettività. I genitori della bimba chiedevano nel ricorso di riammettere la piccola alla scuola dell'infanzia dopo l'esclusione decisa dalla direttrice scolastica a gennaio, ritenendo che l'ASL avesse dovuto adempiere all'obbligo informativo e procedere agli accertamenti sanitari sulla reale capacità della bambina di ricevere un vaccino, dato che il fratellino, quando è stato vaccinato, ha sviluppato una serie di reazioni che lo hanno portato a finire ricoverato in ospedale per quasi un anno. Ora, i legali della famiglia si preparano a ricorrere al Consiglio di Stato, Un passo obbligato, dato che l'ASL non ha presentato nessuna diversa documentazione a seguito dell'interlocutoria disposta dal TAR da quella già da noi prodotta, spiega Giovannelli. Ma le tempistiche del ricorso purtroppo non consentiranno alla bambina di tornare a scuola in tempi brevi. Quel che ci sconforta, dice l'avvocata, è che emerge sì una volontà di tutelare la salute collettiva dei bambini nel rispetto della cosiddetta immunità di gregge, ma dall'altro lato bisognerebbe tutelare anche la salute individuale. La ASL avrebbe dovuto, insistono i legali, reintegrare la bimba alla scuola dell'infanzia e intanto procedere con gli accertamenti sanitari.